Ciao a tutti i rubri di web, io sono Master e bentornati sul mio canale Oggi siamo qui con questo nuovissimo video ragazzi che come potete vedere è su Minecraft Ragazzi oggi siamo qui in un nuovo Minecraft minigame e cioè sulla modalità Skywars Nel server mc.leccraft.it se non sbaglio comunque troverete il link in descrizione se anche voi volete giocarci Comunque una cosa triste ragazzi di questo server è che guardate sono Steve E non si vede la mia skin del lupetto che era molto figlio però vabbè piccoli dettagli che possono essere molto superi Comunque ragazzi la cosa epica è che oggi siamo qui sugli Skywars su questo server fighissimo Sono ritornata appunto con questa modalità su Minecraft perché mi piaceva un sacco e spero che è così anche in questo video Quindi fatemi vedere che appunto vi può piacere questa modalità quindi lasciate un bel like e un bel commento Se volete un nuovo episodio sugli Skywars ora andiamo a buttarci sotto nel buco nero che insieme tutti ci risuccherà Perfetto siamo nella mappa di Natale guardate che bellino quell'albero di Natale molto figo molto swag Comunque ragazzi lasciate un bel mi piace appunto se vi piace questo format che vi sto portando in ogni video con la webcam tutto bello editato MLG Oh baby è triple E appunto ditemi se vi può piacere lasciatemi un bel commento dicendomi appunto quale video vi piacerebbe Vedete sul mio canale di Minecraft Comunque è notte noi abbiamo paura perché noi siamo dei piccoli lupetti indifesi senza armatura Anzi abbiamo trovato anche un pochettino qui di schippezze perché un lupetto non è degno di avere queste merde qui Però vabbè vabbè ragazzi i lupetti devono sopravvivere Ok una chest Merda merda tutta merda ragazzi Dobbiamo armaturarci per bene e in nome dei lupetti dobbiamo andare ad attaccare tutti questi plebei schifosi Perfetto là ne vedo già uno Proviamo a fare tipo un trick shot omegi Lui si teletrasporta Cioè chi è l'unico pazzo che va girando con un'arma che non sia una vera arma ma sia un piccone Chi è? L'unico sono io Mamma mia non c'è nessun altro più pazzo di me E infatti ho fatto benissimo a fare ciò perché abbiamo i diamanti E ora possiamo farci la nostra bellissima spada in diamants Ecco qui la nostra spada di diamanti Mamma mia Ragazzi andiamo ad abbordarlo Dobbiamo andare a ucciderlo Questo infame plebeo non è degno di essere attaccato da un lupetto Perfetto andiamo ragazzi Andiamo ragazzi Peggio di tutti lupetti Peggio di tutto Peggio di tutti Peggio di tutti Muori Muori Fuck you Perfetto 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 Oh Sta arrivando uno Sta arrivando uno Muori 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 Tu non puoi essere degno di uccidere un lupetto Muori Muori infame muori Devi morire Mi ha ucciso Mi ha ucciso Non ci posso credere Non ci posso credere Ah no ho vinto Ho vinto Leggete qua Goalmaster ha vinto nella mappa natale Mamma mia The best OMG MLG Ok ragazzi Il vostro lupetto ha vinto una partita Ma io non l'ho vinto Così ragazzi No Perché non ne dobbiamo vincere un altro Dobbiamo far vedere Che i veri lupetti Sono anche capaci di vincere due partite Contemporaneamente No contemporaneamente Consecutivamente ragazzi E' tardi Non sto capendo Un cazzo Nel vostro lupetto Nel vostro lupetto Vincerà anche la seconda partita Perché non è finita qui Ora siamo nella mappa Del mortore Che cazzo è questa mappa E' no Ma comunque ragazzi Il vostro lupetto Vincerà anche qui Perché in nome dei lupi Porteremo a casa Anche questa vittoria Ci siamo Per sparta Per sparta Non andiamo a attaccare La sorpresa Eccolo qui Eccolo qui ragazzi Eccolo qui Perfetto Perfetto Uccidiamolo Uccidiamolo Veloce 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 Non ci stacca Grandissimo Regà Regà Ti peggio rubi Ti peggio rubi Gli ho filato le zanne Proprio L'ho ucciso amare Questo qui aveva anche 7 diamanti Era una donna Allora Andiamo a farci subito La nostra spadina In diamante Perché Con quella in legno Cioè Stiamo scherzando Un lupo non può andare girando Con una spadina in legno Cioè Beh Su Vediamo ora chi andare a prendere Guarda quello lì Guarda quel bambino lì Guarda quel bambino lì Guarda quel bambino lì come muore Va come muore Va come muore Cioè Hai visto come sei morto Male Male Distrutto Arato proprio Mamma mia L'ho visto L'ho visto L'ho visto Aspettate L'ho ucciso Mamma mia Attentato 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 Terroristico Mamma mia Mamma mia L'ho ucciso E' sparito E' sparito E' sparito E' non so più dov'è Eccolo qui Sta dietro di me Sta laggando Come un animale Eccolo Eccolo L'ho visto L'ho visto Deve morire Deve morire Deve morire E' morto E' morto Ma è morto Signore Signori E' morto Ok Stiamo qui per incantare la spada Mamma mia Signori Vediamo cos'è che esce Che cos'è che è uscito Mamma mia Affilatezza 1 Cioè La bestia E' quello lì ragazzi Il bastardo che ci sta aspettando Guardate 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 Che brutto Infame di merda Cioè ragazzi Sto laggando Da cosa sto prendendo Colpi Basta E' morto E' morto Ragazzi Abbiamo perso Ma non so che è successo Si è allancato come le bestie Accettabile Dai la prima partita L'abbiamo vinta La seconda ce la meritavamo Però quel bastardo ci ha ucciso Vabbè Sciarra Quindi ragazzi Il video di oggi Finisce qui Nei commenti Lasciatemi Un consiglio magari ragazzi Su cosa migliorare Su cosa vi piace Cosa da aggiungere Cosa da togliere Ragazzi Quindi consigliatemi Perché io sono aperto Alle vostre critiche Ragazzi Io cerco di migliorare Grazie a voi Quindi lasciatemi un bel mi piace E ditemi se volete Che continui Minecraft E magari anche Una serie da iniziare Perché veramente Sono senza idee In questo periodo Lasciatemi un bel mi piace Se questo nuovo format vi piace Quindi se volete Che io lo continui a portare Sul mio canale Se non siete ancora istiti Iscrivetevi E condividete questo video Su Facebook O con il vostro miglioramento E detto questo Noi ci vediamo Ad un prossimo video Ciao ciao Grazie a tutti Grazie a tutti.